Sconfitta, casalinga per la Vino Basket dopo due vittorie di fila. La squadra irpina è stata superata dall'Uni Euro4D con il punteggio finale di 64-73 nella sesta giornata del campionato di Serie A2. Dopo un primo quarto, con tanti errori, è terminato 14-14. La partita si è accesa nella seconda parte di gara. Un quarto equilibrato che gli irpini avrebbero potuto giocare avanti se non fosse stato per il canesso di Gasparto allo scadere. Una tripla chirurgica che ha permesso agli ospiti di portarsi sul riposo sul 34-32. La Vino Basket nel terzo periodo è entrata in campo con più decisione, spingendosi sul più 8, 44-36. Al break caverinese la squadra ospite ha risposto con orgoglio. Compara Vicino e Gaspardo che hanno trovato i canessi importanti, chiudendo il terzo periodo sul 49-51. L'inerzia della partita da quel momento è passata nelle mani di Forlì, che ha saputo gestire e respinge il ritorno dei padroni di casa. I bianco-rossi sono saliti in cattedra sul più 8, 57-49. Avelino ha replicato con un break di 6-0 firmato Jurkavan, che ha permesso ad Avelino di accorciare 55-57. Tuttavia, al terzo incontro di una settimana, la Vino Basket non ha avuto forza offensiva di trovare canistri facili. Non ha aiutata neanche dalle percentuali 3-19 da 3. E poi ci sono state le disattenzioni difensive, sanguinose, che hanno permesso alla squadra forvilese di trovare il canestro facilmente. Domenica si torna nuovamente in campo, questa volta in trasferta contro la Forti Duto. Bologna-Avelino è chiamata a riscatto.